Un derby alla prima giornata, due alla seconda. Parte decisamente forte in chiave abruzzese il girone F di Serie D che presenterà due turni infrasettimanali a dicembre, uno a gennaio, una sosta a metà marzo per il torneo di Viareggio ed un turno pasquale che anziché nel weekend si giocherà di giovedì. Chiusura del torneo prevista per il 16 maggio 2021. Oggi sorteggiati dunque i calendari di Serie D. L'avvio il 26 settembre con fischio d'inizio alle ore 15. Subito Pineto-Notaresco, confronto tra le due abruzzesi che sulla carta mirano ad un campionato ambizioso. E sfida che è il sapore della rivincita per il tecnico del Notaresco Massimo Epifani che lo scorso anno guidò il Pineto nelle prime sei giornate di campionato per poi essere esonerato. Guarda caso dopo un Notaresco-Pineto, giocato però al Savini, derby con tanti ex contro e che regalerà subito spettacolo. Per la matricola Castelnuovo, debutto sul campo del Fiugi che lo scorso anno spesso è risultato ostico per le nostre rappresentanti. Squadra rimasta in mano a Incocciati e ulteriormente rafforzata. Prima al Fadini e non poteva essere altrimenti per il Giulianova che vede riunita la coppia dei fratelli Del Grosso con Federico Allenatore e Cristiano Chioccia in campo. Per i giallorossi, in buona parte rinnovati e che hanno l'obiettivo salvezza, ci saranno i morisani del Vasto Girardi. Quindi la Vastese che si esibirà in trasferta contro la retrocessa Rieti, che è ancora un cantiere aperto, non facilmente decifrabile, come cantiere è la stessa Vastese. Seconda giornata, come detto, con due derby Castelnuovo-Pineto e Vastese-Giulianova. Notaresco in casa con il Rieti. Terza giornata senza derby. Aprilia-Castelnuovo, Fiuggi-Vastese, Agnonese-Notaresco, Pineto-Vasto-Girardi e Giulianova-Recanatese. Alla quinta giornata, 25 di ottobre, scatterà l'orario invernale delle 14.30. Il 28 marzo, decima di ritorno, si tornerà alle ore 15. Le ultime due di campionato a maggio si giocheranno alle ore 16. Il 2 e il 23 dicembre si giocherà di mercoledì. Dopo il 23, sosta natalizia è ripresa sempre infrasettimanale nel giorno dell'Epifania, 6 gennaio, con la penultima di andata. La giornata pasquale, undicesima di ritorno, si disputerà giovedì 1 aprile.